salve a tutti io mi chiamo andrea monari e sono qui per farvi vedere cose che non vorreste vedere mai ho la gola un po secca penso che mi preparerò un bicchiere di acqua e sale questo è sale puro e semplice sale che mi sta finendo anche sul computer insomma la sale ve ne faccio vedere un po sale sale e sale autentico sale e lo messo in un bicchiere d'acqua cosa andrò a fare andrò a berlo per la gioia di tutti voi io mi svelo un segreto non sento i sapori quindi oggi partiamo con un bicchiere di sale e poi continueremo con tutta la nostra buona cucina italiana e anche le cucine di tutto il resto del mondo perché sono una persona malvagia a cui piace distruggere le ricette quante volte mia nonna mi ha detto non si mette il ketchup su e io ce lo mettevo lo stesso detto questo beviamo il nostro bicchiere di acqua e sale allora salute pensavate volessi fare un trucchetto o un montaggio un qualcosa di simile no qui c'è il nostro bicchiere con acqua e sale e se non siete sicuri ce ne metto dell'altro vedete sale che scende perfetto ragione per cui alla vostra salute amici miei e buona bevuta saliniente saliniente saliniente